Ciao a tutti ben ritrovati sul mio canale, sono DJ Peck, bentornati, anzi finalmente ritornati su una nuova puntata di Parole in Libertà. Come ho detto in altri video non sono stato benissimo, influenze e quant'altro, ne porto ancora qualche strascico, però diciamo sono leggermente più in forma, poi ci si mette in mezzo anche il lavoro, quindi non sono sempre pronto per fare video, però a volte, specialmente il fine settimana, ho un pochettino di più di libertà, quindi riesco a postare qualche video. Parole di libertà, di che parliamo quest'oggi? Quest'oggi parlo di una cosa che per me è una roba veramente vergognosa, non si dovrebbe fare queste cose qua, però purtroppo succedono. Parliamo di calcio, parliamo della diatriba che esiste fra i tifosi giuventini, tifosi o presunti tali, perché ragazzi qua si mette davanti i propri interessi personali, piuttosto che il sostenere la propria squadra di calcio, la propria fede calcistica. Premesso che io abitando a Sansepolcro, quindi in centro Italia, non posso andare allo stadium, premesso che mi piacerebbe molto andare allo stadium tutte le domeniche, oppure quando ne potesse avere la possibilità, questa cosa non mi riesce, perché comunque sto a tanti chilometri di distanza, invidio molto chi riesce, chi può andarci tutte le domeniche, però la situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi ha del grottesco. Perché direte voi? Semplicemente perché non esiste, esistono le spaccature all'interno delle varie tifoserie, me ne ricordo tante in tante curve italiane, però questa cosa non deve andare a discapito della squadra. Abbiamo assistito ad alcune partite, io purtroppo solo in televisione, dove non c'era tifo assolutamente, sembrava di giocare nel deserto ed è una cosa abbastanza brutta, non è bello insomma. Fino a ieri sera Juventus-Udinese 4-1 dove c'è stata la spaccatura totale tra le due curve, che hanno cominciato a cantarsene una in faccia all'altra, fischianza e vicenda e quant'altro. Ragazzi, io ripeto, non faccio parte di nessun gruppo ultra, non posso andare allo stadio tutte le domeniche, non so e non mi interessa chi abbia ragione perché secondo me in questo caso perdono tutti, però ce l'ho un po' con gli ultras, quelli della curva sud, perché io capisco il caro biglietti, capisco che vi girano le balle per il caro biglietti, ma non è questo il sistema di contestare la società per queste cose. Poi la società fa le sue scelte giuste e sbagliate, non sta a me giudicare, uno se non gli sta bene il caro biglietti può non andare in curva, qualcun altro al suo posto lo trova sicuramente che vada in curva. Poi dopo se queste contestazioni vengono fuori perché ci sono in mezzo interessi personali, questo è un altro paio di maniche che con il tifo, onestamente, non c'entrano assolutamente nulla. Ripeto, non so quali sono le situazioni e onestamente mi interessa anche poco, a me interessa semplicemente tifare la mia squadra, specialmente nei momenti di qualche difficoltà, bisognerebbe stringersi attorno alla propria squadra, alla propria fede calcistica e cercare di tifare e cercare di portare il proprio apporto, quello che uno può, perché più che gridare i cori o far sentire l'affetto ai giocatori, altro non è possibile fare da tifosi. E sentire, specialmente ieri sera, questo sfociare in questa guerra tra le due curve è stato veramente brutto. Mi fa piacere che comunque, visto che se non canta la sud e il resto dello stadio sta muto, ieri sera c'è stata una piccola ribellione da parte della Nord e qualche coro è partito anche dalla Nord. Ragazzi, io ripeto, non sono un ultra, non sono un capo ultra, non mi interessa niente degli ultra, ognuno fa il suo giustamente, però mettete da parte gli interessi personali e vedete di sostenere la squadra come merita. Tra l'altro una squadra che negli ultimi anni, dopo il 2006 ragazzi, e due settimi posti ci ha regalato otto anni di vittorie, otto anni splendidi, dove ogni anno abbiamo vinto sicuramente qualcosa e quando il mister Allegri dice che le vittorie vanno celebrate, ha perfettamente ragione. Anche perché ragazzi, con quello di quest'anno, a meno che non succeda l'improbabile, l'impossibile, è l'ottavo scudetto consecutivo, non è esistita nessuna squadra nel mondo capace di fare una cosa simile e per molto tempo non esisterà. Tranquilli, perché quello che ha fatto la Juve in questi anni è una cosa di straordinario. Vincere otto scudetti in fila è una cosa veramente incredibile. Ragazzi, uno scudetto ci vogliono 38 partite per decidere chi lo vince, non un'andata e ritorno, una partita secca o quant'altro. Quindi la Juve ha fatto e sta facendo cose straordinarie. I numeri di quest'anno, anche se accusano Allegri di cattivo gioco e quant'altro, sono straordinari. 24 vittorie, 3 pareggi su 27 partite. Ma di che stiamo parlando? Cioè ragazzi, io personalmente sono molto orgoglioso di questa squadra. Poi, per carità, perdi in Coppa Italia, ti girano le balle, però ci può stare un passaggio a vuoto. Perdi a Madrid, mi girano i coglioni, però ancora siamo dentro la Coppa, c'è ancora Martirino da giocare. Poi probabilmente andrai fuori, non lo so, ma anche se la Juve dovesse uscire dalla Champions, non è un'andata fallimentare, perché comunque la Supercoppa l'hai portata a casa, lo scudetto lo stai portando a casa. Mancano 5 vittorie per poter festeggiare il titolo. Cioè, quest'anno rischi di vincere lo scudetto con due mesi in anticipo. Scusami se poco, insomma, non credo che sia una cosa così poco importante. Comunque, detto questo, poi ognuno è libero di pensarlo un po' come vuole. Per carità, tutte le opinioni sono sempre ben accette. L'importante, come amo dire io, è rimanere in un contesto di educazione e avere uno scambio di opinioni leale, non attaccandosi in maniera vergognosa, cosa che tra l'altro ho visto anche tra alcuni youtuber, ma quello, vabbè, comunque, non è una cosa bella. Ma l'importante, quando si va allo stadio, secondo la mia piccolissima opinione, sarebbe di fare il tifo per la propria squadra. Non dare contro. Porca miseria. Perché, ripeto, ieri sera è stata una scena bruttissima. Ripeto ancora, non so chi ha ragione, non mi interessa chi ha ragione, perché probabilmente avete torto tutti, specialmente chi mette davanti i propri interessi personali. Ed è una cosa veramente brutta. Mi auguro martedì sera di sentire uno stadio che ribolle, che esplode di tifo, che esplode di gioia, magari speriamo che sia gioia al novantesimo, e comunque che però riesca a sostenere la squadra, perché ne ha bisogno. Ragazzi, io credo che, ho visto in tanti stadi, vedi anche all'andata con l'Atletico Madrid, se il pubblico ti sostiene, se il pubblico partecipa, se il pubblico ti inneggia come meriti, magari tiri fuori quel cosino in più che serve per poter vincere le partite. Quello che devo dire, ragazzi, ve l'ho detto, parlo poco di calcio, anche perché come ho detto altre volte non riesco a fare live reaction post partita immediati, cioè a volte arrivo sulla notizia, sul pezzo che è già vecchia, quindi è inutile che sto a fare video di calcio in quel senso lì, anche se mi piacerebbe molto. Non è escluso che magari porterò il canale verso quel sito lì di video calcistici, devo avere molto più tempo a disposizione, cosa che non sarà facile con i visti impegni che ho. Però, mai dire mai, ripeto, parlo poco di calcio, questa volta mi sembrava doveroso, perché è brutto, è brutto quello che sta succedendo nel tifo bianconero, è bruttissimo e tra l'altro non ci facciamo neanche una bella figura in tutto il mondo, perché comunque vedere una situazione così grottesca fa male, oltre che all'immagine del popolo bianconero, fa male anche alla squadra, soprattutto, secondo me fa male alla squadra. Mi raccomando, martedì cercate di... cerchiamo tutti quanti, io lo farò da casa, perché non posso essere presente allo stadio, cerchiamo di sostenere i nostri ragazzi. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi il like, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per essere aggiornati ogni quale volta esce un nuovo video, iscriviti, condividi, spamma, ci vediamo la prossima volta. Ciao!